Mandato d'arresto internazionale e richieste di estradizione per l'ex attaccante del Milan Robson de Sousa Santos, detto Robinho, la richiesta della procura di Milano che ha già attivato l'iter presso il Ministero della Giustizia, il calciatore brasiliano è stato condannato in via definitiva assieme ad un amico a nove anni di carcere per violenza sessuale di gruppo su una 23enne albanese nel 2013 in un locale di Milano. Robinho e il suo amico sono in Brasile ma probabilmente non saranno consegnati alla giustizia italiana perché la Costituzione brasiliana non consente l'estradizione dei propri cittadini. Grazie